... Cambia il piede, poi ricomincia con qualche problema, recupera la sfera Cesaro, ancora Cesaro, prova a saltare Tombesi, mette il pallone in rete, diciottesimo gol per il bomber con la maglia numero 7, 1 a 1. Cesaro al limite dell'area, prova a trovare spazio per liberare il destro e la mette lì, nell'angolino, come siamo abituati già a vedere, doppietta anche per lui, e diciannovesimo gol stagionale, Pisana Calciotto che trova di nuovo il gol del pari. Ancora Chianelli questa volta, al solito lancio lungo, fa ottima, sponda Cesaro, a Massari in area di rigore, va con il sinistro ad incrociare, 3 a 2, Pisana Calciotto. Prova a girarsi, a liberare il destro, trova uno spiraglio, conclusione deviata e gol del 4 pari, ha trovato ancora Cesaro la rete del pareggio, tripletta personale per il numero 7. Tentato, ma ha messo fuori, poi Cesaro prova a far ripartire i suoi, doppio passo, vince un rimpallo, Cesaro con il destro, la mette lì, sotto il 7, poker di Cesaro, 5 a 4, Pisana Calciotto.